Non hai compiuto ancora 31 anni e hai un pacchetto Vodafone? Da oggi con Scegli Unlimited aggiungi SMS illimitati e un gigabyte di internet veloce. Gratis per sempre! Attivare Scegli Unlimited è semplicissimo. Sul fai-da-te di Vodafone.it, clicca sul box Scegli Unlimited e attiva l'opzione. Se hai uno smartphone, vai su App My Vodafone e attiva Scegli Unlimited direttamente dal catalogo delle offerte. Non hai compiuto ancora 31 anni ma la tua sim non è intestata a te? Fai una nuova registrazione su Vodafone.it e attiva Scegli Unlimited dalla sezione Fai da te. Scopri tutte le altre opzioni Scegli tu che puoi aggiungere al tuo pacchetto su Voda.it slash Scegli tu.